Questo seminario del breakfast oggi conclude una due giorni straordinaria che ha impegnato tantissime aziende nel percorso formativo che abbiamo strutturato come Unione Provinciale e Albergatori, strutturato su due aspetti, un aspetto che è la formazione obbligatoria ma soprattutto l'aspetto più interessante dove si colloca il seminario del breakfast è quello della formazione professionalizzante. Il nostro obiettivo è quello di mettere a disposizione di tutte le imprese associate degli strumenti concreti di conoscenza e di lavoro per permettere loro di migliorare la propria gestione interna ma anche di affrontare all'esterno il posizionamento competitivo rispetto ai mercati della domanda. Lo speed date e il breakfast si collocano in quest'ottica e hanno come scopo lo speed date di insegnare alle aziende, soprattutto quelle più piccole che non hanno una struttura in grado di far fronte a tutte le esigenze e le necessità, come gestire in maniera ottimale tutti i propri punti di forza e anche tutte le proprie, speriamo, pochissime debolezze. Il breakfast mette al centro dell'attenzione ormai una delle componenti essenziali e fondamentali dell'offerta ricettiva ligure, savonese e italiana.